Immagino. Mette in serie a difficoltà Grudina. Pecci al tiro. Cinque minuti più tardi. Non cambia il copione nella ripresa. Al quindicesimo incursione in aria di Luppi smarcato da un colpo di tacco di De Marchi. Trentaduesimo invito di Bonetti per Marronaro in ottima posizione. Trentasettesimo il prelugio al gol. Cross di Villa. Bonini cerca l'angolo basso. Manca un solo minuto alla fine. Il Bologna riesce ad agguantare una vittoria che vale doppio. Bonini riconquista il pallone. La difesa pisana pasticcia su Lorente e rompe lo stesso Bonini. E Maifredi può salutare il suo pubblico a passo di corsa. Per la cronaca un pomeriggio di assoluto relax per il portiere rosso-bluco.